A seguito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, espletata dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Giulianova, in sinergia con i colleghi della Compagnia di Chieti Scalo e con l'ausilio di unità del nucleo carabinieri cinofili di Chieti, sono stati arrestati tre indagati ritenuti responsabili del reato di detenzione e i fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, dal mese di agosto 2019, il nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Giulianova ha avviato un'attività di indagine finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sulla costa teramana, ma con clienti che giungevano da tutta la provincia di Teramo. L'indagine nasceva dal controllo e dalla successiva osservazione di un pregiudicato proveniente dall'entroterra teramano, trovato in possesso di alcuni grammi di eroina. Dallo sviluppo dell'attività investigativa veniva subito individuato un gruppo di pregiudicati facenti parte dello stesso nucleo familiare, avente la base operativa nella zona della Rocca a Giulianova, che aveva attivato un lucroso canale di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina. Il primo importante riscontro alle indagini si ebbe nel mese di novembre 2019, quando i militari dell'arma, grazie anche all'impiego di unità cinofile, trovarono e sequestrarono in uno scantinato del quartiere della Rocca, Giulianova appunto, più di un chilo di eroina e circa 200 grammi di cocaina, con il conseguente arresto di una pregiudicata di 56 anni. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e del Tribunale di Teramo sono state avviate così attività tecniche che hanno accertato e documentato nel corso dei tre mesi in cui è durata l'indagine, l'accessione ai numerosi tossicodipendenti che si approvvigionavano dalla banda di circa 750 grammi di cocaina e 400 grammi di eroina, per un valore complessivo di oltre 100.000 euro. Le misure di custodia cautelare in carcere e le perquisizioni sono state effettuate da oltre 30 carabinieri che hanno cinturato l'intera zona della Rocca, Giulianova, al fine di evitare eventuali fughe dei soggetti.